Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso code a tratti tra Calenzano e Barberino per lavori chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla A12 per lavori code a tratti tra Carrara e Sarzana in direzione Genova e tra Versilia e il Bibio per il raccordo Lucca-Viareggio in direzione Livorno. Sulla FIPILI per lavori rallentamenti in direzione mare tra Ginestra e Montelupo e in direzione Firenze tra Impoli e Montelupo. Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!